Grazie alla mediazione di Guittone d'Arezzo e dei poeti della scuola siculo toscana nella prima metà del 200 la lirica siciliana il primo grande esempio di poesia in volgare in Italia si diffonde anche in Italia centrale nell'area tosco emiliana ed è qui nella stimolante realtà cittadina dei comuni che nasce il dolce stil novo il precursore di questa tendenza letteraria è il bolognese Guido Guinizzelli che nel 26esimo del purgatorio Dante riconosce come il padre mio e degli altri miei miglior cioè il padre suo e degli altri poeti vicino a lui i poeti del dolce stil novo a Guinizzelli si deve infatti l'elaborazione dei temi più tipici dello stil novo come si può e vincere dalla canzone manifesto al cor gentil reimpaira sempre amore che già nel primissimo verso contiene uno dei nodi centrali della lirica stil novistica ovvero l'identificazione tra amore e gentilezza sempre a Guinizzelli si deve la rielaborazione dei topoi o motivi tipici della lirica provenzale in una chiave più spirituale e trascendente uno per tutti l'equiparazione della donna a un angelo proveniente dal regno di dio la formula dolce stil novo coniata da Dante nel ventiquattresimo del purgatorio designa un modo nuovo di fare poesia rispetto ai poeti della generazione precedente e degli stessi siciliani un modo nuovo nei contenuti e dolce leggiatro nello stile nuovo e migliore rispetto alla maniera antica di Guittone d'Arezzo e degli altri poeti toscani come afferma lo stesso Dante per bocca del poeta Bonaggiunta Orbicciani nel ventiquattresimo canto del purgatorio ma in cosa consiste questa nuova maniera quali sono i tratti che avvicinano i cosiddetti poeti stilnovisti. In primo luogo questi poeti si conoscono si frequentano si scrivono non è una scuola è piuttosto una compagnia di amici tranne il pistoiese Cino vivono e operano tutti a Firenze negli stessi anni tra il 1280 e il 1290 Dante dedica la sua prima opera la vita nuova a Cavalcanti il suo amico della giovinezza e tutti quanti si mandano sonetti in cui parlano delle loro vite e soprattutto delle loro storie d'amore in secondo luogo ad accomunare questo gruppo di poeti è la ricerca di uno stile dolce cioè raffinato musicale ma al contempo piano e facilmente comprensibile lontano dalle asprezze e dall'oscurità dei poeti della generazione precedente. Da questi li separa infine l'attenzione esclusiva nella loro produzione poetica per il tema dell'amore attenzione che li porta a mettere in secondo piano le tematiche politiche e morali predilette dai poeti della scuola siculo toscana uno per tutti guittone d'arezzo. La poesia era servita fin qui per parlare di religione di politica di morale e anche d'amore. Ora con il dolce stil novo l'amore diventa come era stato tra i siciliani il tema assolutamente dominante. L'idea ancora oggi diffusa che i versi servano a descrivere non la realtà esteriore ma l'interiorità del poeta i suoi sentimenti insomma ha proprio qui le sue radici. Come trattano il tema dell'amore e gli stilnovisti? In modo sensibilmente diverso rispetto al passato. Per un poeta moralista come guittone l'amore terreno è un male, per gli stilnovisti al contrario l'esperienza dell'amore per una donna rende nobile l'uomo, lo migliora. Come insegna Guinizelli la passione amorosa è indissolubilmente legata alla nobiltà, alla gentilezza dello spirito dell'amante. Essere innamorati diventa un segno di eccellenza morale.